Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e oggi siamo qui con il terzo episodio di questa mia serie Overpriced VS Affordable, ossia giocatori costosi contro giocatori economici E oggi vi presento il confronto tra due giocatori, due esterni della Bundesliga Si tratta di Royce contro Elia, davvero due bestie a confronto ma partiamo subito Controllo di palla 84 per Royce contro 79 di Elia Dribbling di Royce 87 ma addirittura arriva a 89 per Elia che quindi ha più dribbling di Royce, davvero incredibile Finalizzazione per Royce è elevatissima, 86 contro diciamo quella un po' scarsa di Elia che non arriva neanche al 61 Precisione punizioni diciamo che è molto meglio per Royce, infatti arriva a 84 mentre diciamo che Elia è davvero molto debole in questo aspetto Precisione di testa sono entrambi molto deboli, infatti non raggiungono nessuno dei due il 60 Tiri dalla distanza 89 per Royce, davvero un tiratore dalla distanza eccellente, fa davvero dei grandi gol Mentre Elia non è davvero niente di che non arriva neanche al 70 Passaggi per Royce 83 mentre diciamo Elia tutto sommato è decente con 75 Potenza tiro per Royce 85 contro 74, tiri al volo 84 contro 73 Passiamo ora alla parte fisica di questi due giocatori che sono diciamo sta prevalendo per ora Royce ma vediamo se Elia riuscirà comunque a riprendere Royce Partiamo dall'accelerazione 89 per Royce contro 93 di Elia davvero elevatissima per questo giocatore olandese Agilità 89 per Royce e 87 per Elia che davvero poco ci manca ad arrivare comunque a Royce Equilibrio 82 e 82 per Elia quindi hanno lo stesso equilibrio, riflessi 86 contro 81 quindi tutto sommato niente male Velocità scatto 92 e 92 anche per Elia quindi davvero due giocatori velocissimi Resistenza 78 mentre 90 per Elia Posizionamento in attacco invece e visione viene vinto facilmente da diciamo Royce che addirittura arriva a 87 e 81 Riassumiamo appunto questi due giocatori 4 stelle piededevole per Royce 4 stelle mossa abilità Un workrate in attacco alto e può essere utilizzato in vari ruoli Sta a voi diciamo sceglierlo mentre Elia anche se ha 3 stelle piededevole quindi un tiro diciamo davvero passabile 5 stelle mossa abilità quindi uno skiller davvero fantastico e può essere utilizzato in vari ruoli per esempio esterno sinistro alla sinistra esterno destro o alla destra Riassumendo il confronto tra questi due giocatori Elia è un grandissimo giocatore e sul piano fisico riesce addirittura a tenere testa a un super giocatore come è Royce Inoltre ha 5 stelle mossa abilità che sono superiori a Royce A mio parere il prezzo di 100.000 crediti per Royce è adatto infatti questo giocatore è davvero completissimo Riuscirà a fare tutto e lo farà davvero molto bene Io spero che vi sia piaciuto questo mio terzo confronto tra due giocatori uno costoso e uno meno costoso Continuate a scrivermelo nei commenti chi vi piacerebbe vedere Detto questo ci vediamo a un prossimo video